Grazie. Via femmine di tre anni sulla distanza del miglio sono in quattordici. Autostart che prende velocità. Arretrato Etihad Seven. L'errore del quattordici Easter Rabba. Chiusura delle ali. Emergono Elena là e una pupa. E una pupa sfila a condurre. Terza posizione alla corda per Enea degli Ulivi. A largo troviamo Elsa Mar. E una pupa scandisce ritmo sostenuto in questo primo quarto. Ultimato in trenta. Sembrava si andasse più veloce. Risale in seconda pariglia l'E3Z. Poi il quattro e Maraget. Seicento in quarantacinque e mezzo. Nulla cambia con Euna Pupa al comando e Delsamar in seconda posizione ai lati di Elena là. Metà gara in un minuto e sette decimi. Continua passo costante. La leader è una pupa. La figlia di Remogas va a ultimare il chilometro in uno quindici e mezzo. Elena là cerca di resistere in seconda posizione. Elsa Mar sempre ai suoi fianchi. Poi è Maraget allo steccato e l'E3Z a largo. Per il momento non si inseriscono gli altri. Tre quarti di miglia in uno e trenta. Elsa Mar va a premere su una pupa. Ingresso in retta d'arrivo. Allargo lo scatto di Antibred. Sta passando Elsa Mar. Elsa Mar prende anche margine. di dentro Elena là. Allargo di tutti anche Etihad Seven. Elsa Mar. Antibred è per il terzo. Etihad Seven. Io ho due minuti per Elsa Mar dalla partenza all'arrivo di fuori. Quindi ancora una performance esemplare. L'ultima volta aveva sbagliato in zona proibita. Elsa Mar. Ritorna al successo la figlia di Adrian Schipp e Zamiaross. Allenata da Vincenzo Palumbo e guidata da Antonio Simioli per i colori della signora Manuela Capozzi. Ed è il doppio nel pomeriggio sia per Antonio Simioli che per Vincenzo Palumbo.